Una ricchissima social rassegna ma adesso ci pensa Giuliana a raccontarci una bellissima storia. Sì Andrea perché in questo mondo che purtroppo vive anche tanto di dolori e sta passando un periodo abbastanza buio c'è qualcuno che ci riporta sempre al sorriso e soprattutto nelle corsie d'ospedale e lo vediamo così con questo RVM. Bacini d'apri. Ciao. Ciao. Posso mettermi a sedere? Scopriremo insieme chi era Patch Adams, vero Giulia? Abbiamo qui due ospiti molto speciali. Due ospiti speciali che ci spiegheranno chi ha creato la clown terapia. Siamo stasera con Paolo D'Ambrosio, responsabile di Stretto Bari Teniamoci per Mano Onlus e con Nicola De Mola, clown dottore. E come recita il nostro promo? Wow che bella outfit! Ciao. Ciao. Anche tu qua. Ciao. Ciao. Super colorati. Noi bianco e nero invece loro a colori. E loro però sono le persone serie. Sì. Tra i quattro secondo me vincono loro. Allora, a proposito di Patch Adams, chi è che ha inventato, Paolo, la clown terapia? Beh, Patch Adams, grazie a Robbie Williams e al film, hanno fatto diventare famosa la clown terapia. Ma in realtà la clown terapia è nata grazie a Michael Christensen, che è un clown americano che ha inventato questo modo di andare in ospedale e quindi ha applicato le tecniche circenzi a quelle che sono le corsie di ospedale. Di là è nato tutto. Poi Patch Adams ci ha dato la possibilità di essere conosciuti in tutto il mondo. La vostra ultima iniziativa è stata domenica tra le corsie dell'ospedale pediatrico, il Giovanni XXIIIesimo, e ne abbiamo parlato anche su Telebari, Andrea. Hanno fatto la prima edizione della zooterapia... Wow, quindi con gli animali! Sì, con gli animali, una decina di animali. Come è andata, Nicola? Che meraviglia! Un'esperienza unica che rimarrà nei nostri ricordi per sempre e penso di tante altre persone. Qual è? Vai! Posso? Vai, vai, vai! Quali sono gli animali che un po' si prestano di più? Sicuramente i cani, ma noi siamo stati capaci a portare di tutto, dai papagalli all'iguana, tartarughe, di tutto. E vedere i cani che diventano bambini è un'esperienza unica. I cani che si lasciavano accarezzare tranquillamente, senza problemi. Bambini che, quando guardano noi e guardano i cani, lacrime di gioia, sorrisi emozionanti. Sono immagini che restano impresse e che continuo a emozionarmi quando lo dico. Eh, si sente dalla voce, poi stiamo vedendo queste foto che ci avete mandato bellissime. Addirittura anche i pappagalli. Beh, un'ara aranuna, molto rara, bellissima, con un'apertura di ali che era di due metri. Ma non soltanto questo, un drago barbuto, un serpente, sei cani, come diceva Nicola. Poi un criceto dorato, un criceto bianco, due tartarughe, ermanni, ermanni, un gheppio. Insomma, veramente un piccolo zoo. Infatti abbiamo chiamato Zoo Terapia dei Sorrisi. Devo dire che ha funzionato alla grande, prima di tutto con noi stessi, perché ci siamo divertiti tantissimo. E i bambini, devo dire che quando ci vedono divertirci noi, perché loro non hanno filtri, viene più facile, perché ci vengono dietro e si divertono insieme a noi. E devo dire che poi anche il personale medico, paramedico, gli infermieri, sono stati tutti molto carini, lo sono sempre con noi. Ma in questa occasione di domenica particolarmente, perché si sono visti invasi l'ospedale di tutta questa atmosfera che è insolita naturalmente per un ospedale. Paolo, qual è stata la scena che ti ha commosso di più? Beh, guardate, c'era una bambina stupenda, purtroppo con una grave malattia, che è Matilde, anzi saluto Matilde, la mamma, se sono ancora notata. Ciao Matilde! Ciao Matilde! Che quando ha visto appoggiarsi sul suo braccio l'ara, un'ara che, ripeto, è così grande, con un'apertura all'ara è così... Quella che io volgarmente ho detto pappagallo. Esatto. Sorry, chiedo scusa. Ha fatto un sorriso e la mamma insieme a lei è per noi il risultato migliore, ed essere ripagati tutti gli sforzi che facciamo. Ringraziamo anche noi, salutiamo anche noi Matilde. Matilde, di nuovo. Un abbraccio grande. E poi rubo un'informazione alla vostra presenza qui. Come potremmo, anche perché le televisioni arrivano negli ospedali, come potremmo noi essere un po' più terapeutici? Eh? Beh, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che noi abbiamo un motto che dice che ogni giorno senza un sorriso è un giorno perso. Quindi il nostro invito è... Scusa, approfitto. Ok, rimani giù, rimani giù, rimani giù, rimani giù. Leggiamo insieme. Ah, c'era scritto là. Eccolo qua. Un giorno senza sorriso è un giorno perso. Sì, che poi in realtà è quello che diceva Charlie Chaplin, insomma. Quindi il nostro invito è a fare in modo che ogni giorno che voi passate qui in televisione lo accompagnate con un sorriso. Noi facciamo delle tecniche di formazione che sono proprio degli esercizi di sorriso. Per esempio abbiamo gli esercizi con le vocali. Ah, 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 ah risata quindi se voi riuscite ogni mattina o anche a fine giornata a fare pochi minuti di questa cosa vi posso garantire che la vostra giornata si affronti in maniera diversa mi viene quasi da fare un gioco con la treccia di Giuliano viene solo la prima delle tante cose che potrebbero succedere Nicola ma tu in realtà prima di fare il volontario hai un negozio d'ottica come ti sei avvicinato a questo mondo? eh bella domanda allora era il mese di maggio 2020 stavo lavorando quando vedi passare da fuori il negozio dei clown come loro che solo a vederli ci si ride immediatamente chi si loro? che fate? chi siete? e mi lettero una bella spiegazione in quel periodo con me a casa c'era una persona che oggi non c'è più che non stava tanto bene e dissi io ho la mia compagna che ha l'Asrae volete venire a casa facciamo visita e loro sono venuti a casa nel momento in cui sono entrati in casa io ho rivisto quel sorriso che me ne ero dimenticato vedere sorridere questa persona in quello stato questo sorriso mi ha colpito e da quel momento io faccio parte di uno di loro la clown terapia per me rappresenta la rinascita è molto importante la clown terapia e ci fa capire il senso della vita quindi oggi dico anche grazie alla clown terapia se sono rinato se sto bene e se sono qui con voi ne siamo contenti di avervi qui con noi ci sono altri bambini che fruiscono della vostra arte vediamo di chi stiamo parlando ma questi fiori sapranno farà prime buon giorno rosseo a sempre ho buonato stasera e il mio cuore non sta scusamo io da te beh gli altri bambini sono gli anziani sono altrettanto contenti di avervi giusto? caspita come si dice più si va avanti nell'età più si ritorna a bambini anzi io devo dire che bambini non lo si diciamo non si smette mai di essere bambini perché noi dentro abbiamo un bambino infatti ai nostri corsi noi cerchiamo di tirar fuori quello che c'è dentro di noi il nostro bambino e il nostro clown e quando andiamo invece dagli anziani è tutta un'altra atmosfera sono delle persone straordinarie a volte sole a volte non hanno più nessuno sono lì soggiorno in una struttura anche se è bella però magari sono sole e noi cerchiamo con tecniche diverse rispetto a quelle dei bambini perché sono tecniche diverse sono improntate più sul canto sul coinvolgimento emotivo sulla danza di creare per loro quelli che erano i loro momenti di svago di gioia come potrebbe essere una festa poteva essere un karaoke trenini e lì veramente poi diamo spazio a situazioni veramente diverse da quelle che utilizziamo con i bambini e anche lì dobbiamo dire che abbiamo le belle nostre soddisfazioni perché poi andiamo via con il rammarico purtroppo di andare via perché loro ci dicono e dai rivenete altro poco e dai e dai e dai e noi purtroppo poi dobbiamo salutarli per poi magari vederli in un'altra occasione Nicola tra tutte le vostre iniziative che adesso vedremo qual è quella che ha avuto la maggiore partecipazione da parte della cittadinanza barese? Ma sicuramente tutte perché ogni esperienza ogni evento lascia un segno ti direi subito l'ultima ma perché è stata l'ultima che abbiamo fatto ma noi siamo presenti ogni settimana nelle corsie ospedaliere e ripeto ogni corsia ogni evento lascia un segno una lezione di vita e tante tante soddisfazioni che ci aiutano ad affrontare la vita perché nella vita dobbiamo affrontare e superare tutto Ce la faremo anche grazie al vostro aiuto e al vostro contributo c'è un piccolo contributo che arriva anche dal mondo dei social che spesso accende i riflettori sulle vostre realtà sulle tante iniziative che ci sono in Italia Giuliana mi hai portato alla coscienza alla conoscenza questo RVM questa clip che stiamo per vedere e io ne sono venuta a conoscenza grazie a Nicola perché l'ho rubato dal profilo di Nicola si è fatto boon bene bene vediamo godiamoci questo video che meraviglia era un dottore un chirurgo un chirurgo che travestiva i piccoli pazienti da supereroe prima dell'intervento spettacolare spettacolare come sono spettacolari loro che non si fermano sono sempre in attività sempre in attività e in realtà la città di Bari è molto attiva sotto questo punto di vista l'ultima manifestazione l'ultimo evento in merito ci sarà il 2 dicembre ok imminente abbiamo parlato su Telebari proprio oggi in cui si inaugureranno dei murales nel laboratorio di odontoiatria del pediatrico e a tema mare Luna Park Folletti Pesciolini ecco vorrei chiedere a te Paolo quanto l'ambiente sanitario conta sul riportare alla normalità i piccoli l'ambiente conta tantissimo tanto è vero che noi come si suol dire portiamo colore nell'ospedale portiamo colore innanzitutto con i nostri vestiti con le nostre risate però devo dire che ci accompagniamo anche con delle situazioni particolari per esempio io sono stato il presidente del Rotary Club Barimiterraneo fino al 30 giugno di quest'anno e noi grazie al mio club abbiamo all'interno del tunnel del reparto di malattie infettive ricreato un diciamo un mondo favolistico con un passaggio attraverso un oceano e quello devo dire che è un modo per far sì che anche i bambini che devono passare da un reparto magari la sala operatoria lo attraversino in modo colorato quindi il colore è fondamentale in questo caso lo stiamo vedendo in questo momento grazie ai nostri colleghi dalla regia che mandano queste immagini bellissime e che speriamo possano aver aiutato tutti nel percorso di guarigione sì e voi non vi fermate mai e infatti lo vediamo con quest'altro video se la ridono giustamente dove eravate qui in piazza sì eravamo in piazza ferro del ferrarese nella prima edizione di quello che è stato il gran p dei ciechi hanno fatto hanno simulato un circuito con delle macchinine noi siamo stati parte di questo evento insieme all'associazione Le Zanzare e ci siamo divertiti veramente un mondo eravamo circa una ventina con il nostro stand e abbiamo ballato abbiamo fatto bolle di sapone trenini con di sabbi è stata veramente una bellissima giornata e insieme a noi naturalmente anche i genitori la gente che passava è un successo straordinario l'abbiamo avuto con gli stranieri che ci hanno guardato e ci chiedevano cosa fosse e poi in un momento si è creata un'atmosfera magica insieme a loro quasi internazionale quindi è stata veramente una giornata straordinaria ma come dicevate voi non ci fermiamo noi perché oltre ad andare due volte in maniera fissa all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII noi andiamo dappertutto RSSA case famiglie bambini autistici carceri dappertutto tant'è vero per esempio che noi adesso sabato saremo a Molfetta a Lega del Filodolo per avere un laboratorio con i bambini sordocechi poi a gennaio faremo un'altra attività nell'ospedaletto che si chiama di musicoterapia durante le festività natalizie andremo nella comunità nigeriane facciamo veramente di tante tante cose chiudete gli occhi cosa desiderate per il prossimo anno ormai imminente da clown e da persone serie quali siete? Ridere e soprattutto far sorridere noi vogliamo far star bene le persone tant'è vero che noi abbiamo un motto all'interno del nostro distretto di Bari noi siamo un'associazione nazionale e siamo divisi in distretti io sono il responsabile di questo distretto e dico sempre quando recuto tra virgolette nuovi volontari che quello che noi riusciamo a dare è sempre molto 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 meno di quello che riusciamo a ricevere perché usciamo da ogni attività di questo tipo come se viaggiassimo in aria perché la soddisfazione di rubare un sorriso a persone che soffrono non ha uguali nessuna parte sono dei premi veramente incommensurabile come vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi vi abbiamo stretto le mani quando siete entrati qui in studio nel backstage adesso veniamo ad abbracciarvi per ringraziarvi di questo spazio Giuliana grazie la vostra terapia fa bene al corpo e all'anima a voi a noi e ai bambini a tutti grazie grazie per essere stati qui il nostro percorso un po' meno nobile continua con Socialite dopo la pubblicità grazie